Who's the master in game? It's video game Darling What's the coolest name? It's video game Ciao des video Siamo su The Gardens Between Eravamo arrivati l'altra volta Abbiamo fatto questi tre qua E ora facciamo Questo livello qua col computerone Vediamo un po' Garden Between Alcuni livelli ci metto più tempo Alcuni livelli ci metto di meno Però Vedo che sto andando avanti Che forte Allora vediamo un po' Mmm Non ci sono i numeretti Ah Guarda che salta sui numeri 27 22 2 Torno indietro 77 7 6 Cambiamo i numeri Va bene Dopo vedremo Se c'è un numero Particolare Boh Guarda 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 Il fax Oh Lo lasciamo lì in acqua Che dite Vediamo un attimo qua Andiamo avanti Andiamo avanti E va Che spettacolo Non è che si forma il numero Che dobbiamo digitare sul telefono E poi Ma E qui E mamma mia Questo qua Questo qua sarà un livello tosto Secondo me E lì c'è la nuvola Indietro Andiamo avanti Andiamo indietro Andiamo avanti Forse dobbiamo farlo vibrare In maniera che rompa Che si rompa Ah si è rotto Guarda Che forte Solo che qua Ci abbiamo ancora La nuvola Quindi Ci serve Una luce Vedete i numeri 24 Boh Sarà un numero Specifico Forse bisogna mettere Quando i numeri Sono perfettamente dritti C'è un momento In cui i numeri Sono tutti in fila 644 676 Allora Dobbiamo fare 6 4 4 4 6 L'omino Indietro va sul 7 7 E la donna La ragazza Va sul 6 Sì Perfetto E cos'è qualcosa Lì adesso Eh Non dirmi che c'è un'altra cosa Da 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 Decidere E cosa ne so Cosa vuoi Cosa serve Secondo me L'ultimo serve Boh Facciamo andare Il foglio Ah il foglio Ah Vedete Mi ha costruito Quello Perfetto Mitico Però Se è andato Immergere Non lo so Mi serviva Qualcos'altro Allora Questo Cosa sarebbe Cosa mi rappresenta Andiamo a vedere Cosa Ci stampa Ah E' quello Da usare Che Va via Le nuvole Il dong Perfetto Sparito E' via La nuvola Vabbè Però Adesso Tanto Non abbiamo Ancora Ah Però C'è lì La luce Vuoi che Abbiamo Già Fatto Eh Però E' troppo Semplice No Però Si Abbiamo Completato Anche Questo E Vai E Vai Sono Soddisfatto Quando Riesco A Completarli Vediamo Un po' Cosa Ci mostra Ah Beh Adesso Ci fa fare Un altro Livello Vediamo Un po' Spostando Cade Lo scheletro Ok Li portiamoli su E Va Ma Che Spettacolo Ma Questo Nuovo Livello Lo faremo Un'altra Volta Ciao Das Video